Eccomi qua, adesso si ci siamo, ci siamo completamente, siamo a Radio Genius perché gli studi sono quelli di Radio Genius, però benvenuti anche a tutti gli ascoltatori, anzi i grandi ascoltatori, quelli di soliti di Casa Caffè, quella che si svolge notoriamente in quelli di Caffè24 Television e che il mercoledì adesso si è impossessata degli studi di Radio Genius, invece invece il venerdì andiamo negli studi di Caffè24, si chiama comunque Casa Caffè, vuol dire che anche stasera parliamo di cose amene, tranquille, non abbiamo bisogno di scaldarci ulteriormente, abbiamo appena sentito che le coronine di Mercurio viaggiano verso i 37 gradi e percepiti 42, quindi non è proprio il caso che andiamo a scaldarci con i problemi, ce ne sono già tanti, noi abbiamo scelto in questi momenti, in questi istanti e soprattutto notoriamente dalle 21, dalle 20 scusa, alle 21 del mercoledì e del venerdì di essere tranquilli, sereni e affrontare delle cose interessanti, interessanti come cosa? Come uno spettacolo per esempio, uno spettacolo che niente niente domani sera andiamo anche a vedere tutti insieme e allora perché c'è scritto Donne di venerdì? C'è scritto Donne di venerdì perché? Perché questo è il titolo dello spettacolo, però abbiamo con noi a questo punto Daniele che ci può spiegare qualcosa e dice, Daniele sì che non ho sbagliato, sai com'è? Abituati ad avere un po' tutto scritto, poi alla fine ci troviamo e che siamo dimenticati il nome, no non è vero, allora perché Donne di venerdì? Tanto benvenuto, grazie, specifichiamo che fai parte degli attori di questa, ecco benissimo, allora perché Donne di venerdì? Domanda? Donne di venerdì perché il titolo della commedia riprende il ruolo delle protagoniste, le protagoniste di questa commedia sono sei donne, non due ma ben sei, le quali si ritrovano tutti i venerdì sera per abitudine a casa di 3DS che convivono e che ospitano le altre tre amiche per passare il venerdì sera tutto al femminile e quindi trascorrere tra di loro il venerdì sera chiacchierando, parlando di tutto, giocando a parte piuttosto che giocando alla Playstation, piuttosto che facendo sedute spiritiche anche ma si ritagliano questa serata per restare tra amiche. La commedia poi si sviluppa in maniera molto divertente e brillante perché uno di questi venerdì è turbato dall'intervento di un fantomatico maniaco che fa prima delle telefonate, poi si presenta un uomo che viene scambiato dalle donne per il maniaco per cui la situazione precipita, è complicato ulteriormente dall'intervento piuttosto maldestro del marito di una delle amiche che interviene anche egli, si complicano un po' le cose finché con la collaborazione di tutti si riesce a risolvere la situazione e arrivare ad un finale lieto e leggero. Allora, Daniele Berardi in questo fa l'attore, ci hai anche spiegato, tu chi sei in quello che hai detto appena adesso? Sei il marito di qualcuna? Esatto, io sono il marito maldestro. Il marito maldestro? Esattamente. Però senti una cosa così, adesso la butto là subito, tu hai raccontato una storia che in realtà succede tutti i giorni, non che siano tutte le donne che si trovano sempre il venerdì, ma tu sposta la giornata, sposta un po' il numero delle persone, ma di componenti strane che entrano nelle amicizie che poi vanno a turbare i rapporti di coppia, credo che un nome per tutti, Facebook, o no? Sì, assolutamente, assolutamente. Infatti in tutta la commedia poi ritroviamo situazioni reali che ovviamente da parte nostra sono state rese in maniera comica, ma che sono poi quelle in cui si possono ritrovare le donne e addirittura molte donne alla fine dello spettacolo ci vengono a dire sì, abbiamo visto cose che anche noi facciamo, perché ovviamente gli argomenti e le situazioni sono tipicamente quelle che si trovano con sessi femminili, per cui per esempio si parla ovviamente di uomini, si parla di shopping, c'è un'amica che viene lasciata con tutte le complicazioni sentimentali del caso, c'è la spesa da fare, ci sono i problemi domestici, ci sono i sogni eccetera, tutto quanto fa parte del femminile. Ecco, quindi è una giornata tipo forse per molte donne, io vi guardo donne perché so che voi non siete tutte così, perlomeno non siete così tutti i giorni, però una volta alla settimana se non è il venerdì è un altro giorno, l'incrocio e l'incontro con le amiche di solito ci sta, se c'è la possibilità di farlo, perché poi ci sono i problemi, ci sono i bambini, ci sono queste cose qua che allora uno magari non riesce a trovarsi col gruppo così spesso, però l'appuntamento settimanale gli uomini lo hanno stabilito da sempre, che potrebbe essere allo stadio la domenica, potrebbe essere in un'altra serata perché bisogna trovare gli amici per fare calcetto, oppure per chi fa del volontariato ovviamente ci sono delle abitudini consolidate, quindi insomma non è una cosa anormale che ci siano dei gruppi che si ritrovano a data fissa e quindi è una cosa che può succedere, che succede quotidianamente. Sì, infatti il testo è costruito proprio su queste abitudini, poi con ovviamente degli spunti comici particolarmente marcati, oltretutto c'è uno spunto comico al maschile per cui appunto il marito, interpretato dal sottoscritto, approfitta dell'assenza della moglie il venerdì sera che si è recata a casa delle amiche per organizzarsi diciamo un programma alternativo. Ecco, allora l'uomo si approfitta, mi guardo donne, mi guardo perché sicuramente le donne a questo punto stanno sorridendo, stanno sorridendo perché credo che una cosa come questa, cioè uno spettacolo come questo vada sicuramente visto come minimo per potersi riflettere, uno ci si deve riflettere, come fosse uno specchio, uno guarda il palco, quante sono le donne sul palco? Sei! E con quindi caratteri diversi eccetera eccetera, vuoi vedere che su una delle sei non si trovano, chiunque si trova, una donna su una delle sei si trova sicuramente certo, non nei particolari chiaramente no, però nell'indole, nel modo di fare, nel modo di trattare sicuramente quindi merita di essere visto perché uno si ritrova sul palco, cioè sono chi? Sono lì? Com'è? E' vero o no? Assolutamente sì, poi sono, infatti sono giustamente come dicevi sono state caratterizzate le sei donne in maniera molto diversa l'una dall'altra proprio per creare una panoramica quanto più completa sui vari caratteri femminili certamente. Ecco questa è una cosa che è già uscita, avete già presentato questo spettacolo sì? Sì sì sì, questo spettacolo è da due anni che circuita, siamo alla 23esima replica domani sera, quindi è molto rodato e infatti essendo anche rodato con interpreti affiatati è anche un'energia molto molto notevole. Ricordiamoci una cosa perché uno dice lo spettacolo sì ma quando? Domani sera, domani sera dice sì ma dove? E' qui e torniamo in una certa tipo di location che è Villa Cesarotti perché attenzione c'è la gente che dice mamma mia chiudersi in un locale, andare a sentire il teatro se non è condizionato, no, siamo all'aperto amici, questa è la differenza, questa è la bella cosa, siamo all'aperto e a una certa ora va giù tutto quanto e siamo all'aperto e siamo in mezzo all'erba, quindi non c'è quel fastidiosissimo rimbalzo di calore da parte normalmente dell'asfalto o del cemento o di tutti quei materiali che di giorno accumulano e la sera rendono perché l'erba non fa questa cosa, questa è una cosa che dobbiamo ricordare perché il fastidio di stare in teatri all'aperto dove c'è come sottofondo o il cemento o comunque anche una pavimentazione però insomma asfaltata o meno, sempre calore che rende quando l'ho immagazzinato in giornate come questa, ne immagazzina tanto e invece no, l'erba non fa questa cosa e ci rende un servizio di essere perlomeno già freschi intanto mentalmente perché quando uno vede che è in mezzo all'erba, insomma è una location bellissima, abbiamo avuto l'occasione anche di descriverla ma Villa Cesalotti con il parco ristrutturato, con la barchessa ristrutturata è decisamente bellissima e in più siete proprio così belli all'aperto, quindi non avete l'ansia di dire mamma mia come faccio a seguire uno spettacolo? Se è all'aperto, puoi respirare tranquillamente, non ci sono problemi, questo l'avete studiato apposta questa cosa qua, immaginando che sarà questo calore? No, no, questo è uno spettacolo che funziona sia all'aperto che al chiuso ma è, devo dire, particolarmente gradevole d'estate nelle location all'aperto perché essendo uno spettacolo molto brillante, molto divertente e oltretutto aggiunga anche un particolare, questo lo abbiamo aggiunto noi in sede registica ogni tanto il testo è interrotto perché abbiamo inserito all'interno dell'azione dei balletti su musiche particolarmente energiche su cui le donne si scatenano, ha fatto le coreografie una delle nostre attrici e quindi anche questo porta anche a un elemento di divertimento in più Quindi vorresti dirmi però che chi lo ha visto magari lo vede anche diverso se lo guarda anche domani per esempio rispetto alla prima edizione? Sicuramente sì, sicuramente sì perché lo spettacolo ovviamente nel corso del tempo è cresciuto, ha avuto delle aggiunte come capita normalmente, insomma chiaramente poi la pratica del palco porta all'evoluzione di uno spettacolo e ad un miglioramento certamente Siete rimasti sempre gli stessi dalla prima formazione o ci sono stati degli innesti e dei cambiamenti? Sì, siamo rimasti sempre gli stessi, siamo rimasti sempre gli stessi e proprio domani questo così è un particolare, sarà per una delle nostre attrici l'ultima recita perché poi andrà a lavorare all'estero e quindi dovremo sostituirla e quindi sarà un'occasione per noi anche di festeggiare questa ragazza Cioè tu vorresti dirmi che ancora una volta andiamo i migliori e li facciamo andare all'estero? Esatto, è proprio così esattamente In momenti come questi dove c'è crisi nel lavoro riuscire a trovare un posto magari di quelli che uno cercava di un certo valore anche se all'estero si va, sotto questo profilo si fa e quindi uno lascerà il cuore perché le manifestazioni, le rappresentazioni A proposito, la compagnia, nome, quanti siete? Cominciamo a dare un po' di queste notizie Certo, la compagnia si chiama Nautilus Cantiere Teatrale ed è una compagnia teatrale amatoriale di Vicenza, siamo parecchi, siamo una trentina di persone che gravitano nella compagnia, ovviamente poi qualcuno fa un'attività maggiore, qualcuno meno, però sono tutte persone molto brave, molto appassionate, il numero è spiegato dal particolare spirito, dalla particolare struttura della compagnia, cioè è stata costituita sei anni fa, ma è stata costituita sulla base di due criteri, cioè dell'unione di persone come me che fanno teatro da parecchi anni, possiamo dire da decenni e da ragazzi di nuova formazione che escono da corsi teatrali organizzati da un'altra, da una compagnia professionale a cui ci appoggiamo e questo connubio devo dire che fino ad oggi funziona molto bene perché l'esperienza da un lato e l'entusiasmo e la freschezza di ragazzi comunque preparati dall'altra creano un mix che ha certamente un ottimo funzionamento e degli ottimi risultati. E quindi in quanti siete? In tutto hai detto? Una trentina di persone. Una trentina, sì. E quanti sono quelli che hanno fatto partire il progetto e quanti invece sono quelli che di volta in volta andate, perché si tratta un po' di un battesimo e di introdurre al teatro di un certo modello, persone che hanno studiato e che qui non hanno ancora esperienza, da quello che intuisco io, no? Sì, sì, esattamente. I famosi apprendisti stregoni. Esatto, esatto. Ecco, in che rapporto siete? Siamo dunque i fondatori, diciamo i vecchi della compagnia, siamo in otto persone e una ventina sono i ragazzi che si sono aggregati via via, fino a raggiungere appunto una trentina di elementi che si alternano nelle varie produzioni. Per esempio abbiamo recitato ieri sera una commedia di nuova produzione in cui siamo 12 personaggi di cui 10 sono nuove leve e questo dà soddisfazione sicuramente. Ecco, quanti però ne avete parecchi spettacoli a loro, no? Sì, 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 ne abbiamo... In repertorio, come si dice. Esatto, esatto. Prova a citare qualcosa che magari avete già intenzione di fare da qualche parte perché io poi ti chiederò, sì certo, domani sera e domani sera e non ci sono problemi, però più avanti cosa facciamo? Intanto prova se lo sai, se hai voglia di dirlo. Sì, certo. Cosa ti viene in mente? Volentieri. No, poi questo mi permette anche di dire che il nostro repertorio e le nostre scelte artistiche sono quanto mai varie. Non ci fermiamo mai su un genere, ma ci piace spaziare, fare nuove esperienze e tastare tutti i generi teatrali possibili. Per cui andiamo dalla commedia classica, per esempio con un titolo come Sinceramente Bugiardi di Alan Eckburn, che è un autore inglese molto famoso, chiaramente ha vinto anche un Tony Award qualche anno fa alla carriera per il teatro. Per passare per esempio alla commedia presa dal cinema, abbiamo prodotto per esempio Prima Pagina, una commedia che ha per tema il mondo del giornalismo e che è ripresa dal famoso film con Jack Lemmon. Abbiamo fatto recentemente, l'anno scorso abbiamo prodotto uno spettacolo noir molto interessante, anche questo ripreso da una produzione cinematografica americana degli anni 50 dal titolo Il Giglio Nero, dove la particolarità era che la protagonista era una ragazzina di 13 anni e abbiamo fatto recitare una ragazzina dopo aver fatto dei provini, insomma l'abbiamo scelta su misura ed è stata bravissima, è stata una grande soddisfazione portare a fare la protagonista una ragazzina di quell'età. Poi abbiamo anche spettacoli di tipo diverso, per esempio la nostra compagnia è anche specializzata in quella tipologia di spettacoli che si chiamano spettacoli itineranti, cioè che consistono nella rappresentazione di singole scene di opere in vari punti di un posto particolare all'aperto, per esempio può essere una villa piuttosto che un castello, comunque uno spazio piuttosto che un parco, uno spazio grande in cui si organizzano le postazioni in cui gli attori rappresentano delle singole scene anche ripetendole più volte e gruppi di spettatori vanno a vedere, secondo un percorso studiato e determinato, vanno a vedere la successione delle scene. Ma qui mi stai dicendo una cosa che io non conosco, vedi che l'ignoranza non ha limiti, io la mia la conosco bene e sono ignorante parecchio, però il fatto che possa essere itinerante per l'utente, cioè per colui che guarda lo spettacolo, questa ancora non la conoscevo, chiedo scusa e mi scuso soprattutto con chi diceva che Casaratti non lo sapeva, a me piace ammettere le cose perché sennò uno pensa sei tutto o no, non so quasi niente. Ecco, allora questo vuol dire che allora una persona non ha bisogno di arrivare all'inizio, andare via alla fine, può arrivare anche un attimo in ritardo perché se la scena numero uno la ripetono più volte lui se lo guarda in seconda battuta facendo il giro come nei musei. Esattamente. Parte il primo gruppo, secondo gruppo, terzo gruppo e si guardano tutti. Con il secondo turno o così via. Ecco, e quindi come si trovano però gli attori che devono ripetere e ripetere e ripetere la stessa scena più volte? Perché certo che uno la sa a memoria e la fa benissimo, ma io non so, io conoscendomi, io sono una persona che va abbastanza a braccio, lo sai, te ne sei accorto, non ci siamo accordati su niente, abbiamo parlato di tutte altre cose, poi non da parlare di una cosa, quindi insieme vuol dire che andiamo a braccio entrambi, però non mi esce tre volte la stessa cosa uguale, lì invece ci deve essere veramente una capacità di ribadire le cose, quindi viene fatto con la stessa enfasi, stessa capacità, stesso tutto, immagino. Sì, deve essere fatto così e infatti dal punto di vista diciamo strettamente fisico è un'esperienza stancante, specialmente quando, come ci è capitato, bisogna ripetere sei, sette volte la stessa cosa nell'arco di tre ore, però d'altro canto è particolarmente stimolante perché nell'arco di una rappresentazione, cioè di una giornata di rappresentazione, permette di ripetere le cose e quindi di cercare subito di potersi migliorare e questo è molto bello, non bisogna aspettare la replica successiva per trovare un'intonazione migliore o per trovare l'affiatamento migliore con il compagno, ma questo lo si fa subito di volta in volta e questo è molto bello. Ecco, qui hai già detto quelle potevano essere sotto un certo profilo le criticità ma anche il vantaggio, ecco questo è da ricordare perché una persona che commette un errore se ne accorge, perché l'attore si accorge subito se ha un po' cannato la battuta, se non l'ha fatta perfetta e se deve aspettare il prossimo spettacolo perché nelle prove le fai sempre bene e purtroppo nello spettacolo che un po' la tensione, un po' mille cose potrebbe succedere qualcosa. Allora se devi aspettare il successivo spettacolo magari a distanza di tre settimane, hai visto no, invece se lo devi ripetere dopo 45 minuti, no stavolta sto attento ed è così forse che nasce quella capacità di rendere costante, perché poi è un allenamento così preciso e così intenso che poi a quel punto gestualità e intonazioni diventano parte di te stesso quando lo fai così tante volte di fila. Sì certo, infatti è una modalità in cui si riesce veramente ad entrare molto meglio e più in fretta nel personaggio e questa è una grandissima soddisfazione perché di per sé appunto la scena di 5 minuti ripetuta 6-7 volte potrebbe non essere particolarmente attraente, però è molto utile e da molta soddisfazione poter dire all'ultima delle repliche potrebbe dire beh, l'ho fatta molto diversamente e molto meglio della prima perché ho avuto un'evoluzione, ho visto come poteva funzionare meglio e l'ho fatto subito. E anche gli altri insieme. Sì certo, questo poi chiaramente si riverbera sulla dinamica compassiva. Ecco, quindi è proprio una vera prova intensa, un sistema intensivo. Sì, esatto, è un lavoro un po' intensivo. Però faccio la domanda a loro dall'altra parte, perché se c'è un gruppo che ripete la scena ci devono essere gli altri che fanno altre scene. Allora, nell'ambito poi globale, è comunque fatto da persone diverse per ogni scena oppure è perché qualcuno dice vabbè tu fai quella scena lì, tu fai quella lì, tu fai l'altra in realtà se venisse fatto di seguito uno avrebbe più momenti in varie scene o no? Sì, questo dipende un po' dalla formula, nel senso che ci sono sia gli spettacoli in cui uno fa solo la propria scena perché diciamo il tipo di spettacolo consente che le scene siano diverse. Oppure ci sono anche gli spettacoli che vengono realizzati con questa formula, cioè dell'itinerante, del pubblico itinerante, ma che raccontano storie compiute. Faccio un esempio, noi realizziamo con questa formula anche per esempio Romeo e Giulietta di Shakespeare e chiaramente i personaggi principali, Romeo e Giulietta, ci sono in quasi tutte le scene dalla prima all'ultima e quindi con questa formula loro partono dalla prima scena, poi si recano alla seconda stazione più veloci del pubblico che li segue per realizzare la seconda e così via e qui si realizza diciamo uno spettacolo completo però con la formula di prima. Ecco perché viceversa se no basta mettere altre persone però certo Romeo e Giulietta dipende un po' dal tipo di spettacolo esattamente. Insomma dai, bellissimo questo metodo però perché la gente è costretta a muoversi e secondo me così evitiamo che cosa? Quello che si addormente sulla sedia perché non tutti reggono, qualcuno va anche solo per fare compagnia agli altri. No, e se noi andiamo a teatro sì andiamo a teatro va bene, che magari non sono tutti i portati, a parte che il dinamismo è quello che poi ti tiene sveglio, ma anche forse dà una caratteristica in più, cioè che bello è uno spettacolo dove mi muovo anch'io. Sicuramente, sicuramente molto spesso vediamo, abbiamo come reazione diciamo del pubblico che non se l'aspetta, trova una cosa completamente nuova e quindi attraente, interessante. Oltretutto c'è in più l'aspetto per cui, dovendo realizzare questo tipo di formula in spazi aperti particolari, è interessante per il pubblico il fatto che contestualmente alla visione di uno spettacolo praticamente va a visitare un bel posto e anche questo è molto interessante per un pubblico perché va a vedere un posto che magari di per sé, cioè se fosse così statico non andrebbe a vedere mai e così si scoprono ville, parchi, giardini veramente belli, in particolare qui nel Veneto, insomma l'abbiamo fatto molto spesso in posti del Veneto che meritano e che uno magari non andrebbe a vedere se non avesse l'occasione di dire vado a vedere lo spettacolo. Stavo pensando una cosa perché non conoscendo sono curioso e chiedo, ma mi dico io, se una persona deve vedere una scena qui e una scena lì, si porta anche il cadreghino o si viaggia in piedi? O le trova lì? Di solito le trova lì, ogni postazione ha le cadreghine già predisposte e per cui uno si siede e poi fa il tratto di strada e trova l'altra cadreghina pronta ad aspettarlo. Quindi non potete mai invitare i politici, loro hanno la loro e non la cambierebbero mai. Si troverebbero male decisamente. E abbiamo fatto anche stavolta la nostra battuta, sai, perché a me piace fare un po' le battute, ma i politici se le meritano le battute e quindi ci sfoghiamo almeno così, facciamo parte di quelli che ci ridono sopra perché i problemi non devono mai essere problemi, anche la politica non è un problema, basta riderci sopra. Vabbè, finisce qui. Allora, questa è una delle cose che avete già messo in palcoscenico più volte. Che cosa c'è di nuovo in arrivo? C'è qualcosa che non avete ancora portato in scena e che porterete più avanti? State già studiando, state provando o state semplicemente ribadendo quelli che sono il vostro che ho sentito, insomma, anche un bel repertorio, molto vasto, quindi anche solo ricordare e restare dentro certi personaggi, sì, mettercene di nuovo non è mica neanche facile, immagino, no? Certo. Dunque, attualmente non abbiamo in attività cose nuove perché in questo periodo, diciamo, si replicano gli spettacoli già in repertorio e poi dall'autunno, da settembre, ottobre si riprendono. Sì, è un po' l'inverno, no? Che fa studio queste cose qua e non lo preparare. Sì, esatto. Di solito, sì, la cadenza è l'inizio delle attività a settembre, ottobre, poi la preparazione durante l'inverno e il debutto in primavera. Tanto che appunto adesso porteremo anche un'altra commedia e sempre in provincia di Padova. Dove ci spostiamo? Ci spostiamo all'arena di Montemerlo in agosto e ad un'altra arena altrettanto bella che è l'arena Martinelli Pertile di Montagnana, in cui rappresenteremo una commedia dal titolo che è tutto in programma, una commedia che si sposta più questa sui toni della farsa, dal titolo La moglie, l'amante e il Monsignore, che già crea un mix esplosivo, che è un testo molto divertente e costruito sia come testo sia a livello registrico per divertire, per passare una serata in allegria e in leggerezza. Questo lo faremo sempre come per domani sera all'interno dei progetti della provincia di Padova nell'ambito del progetto complessivo che va sotto il nome di Rete 20. Se dobbiamo dirla tutta, questo problema delle province che dovevano sparire, per fortuna che sono rimaste perché certe cose come questi programmi culturali non sarebbero stati subito riproposti da qualcun altro perché un conto è un ente che può stare al di sopra e coordinare l'attività in vari comuni. Un conto invece è il comune stesso che fa per sé e oppure può succedere, come ho visto che hanno fatto per la lirica, che Salvazzano ha trovato adesso dei partner, è iniziato a Montegrotto la settimana scorsa e andrà a finire a Rubano Saccolongo verso dicembre-gennaio e nel frattempo passerà anche per Padova e per per Salvazzano. Anche qui è stato uno spettacolo un po' itinerante, sempre spettacoli diversi fra l'altro e quindi si possono anche mettere un po' d'accordo i comuni e trovare una linea di spettacoli da fare un po' qui e un po' lì. Però certo con la provincia è un po' più facile. Sì, sicuramente perché la provincia si assume l'onere di organizzare e di distribuire gli spettacoli tra i vari comuni con un progetto e un'organizzazione a livello centrale e infatti ci aveva creato non pochi dubbi appunto il fatto che si parlasse di abolizione delle province perché questo tipo di in particolare di iniziative estive è sempre stato organizzato dalla provincia ma ricordo ancora in anni passati c'era il progetto Villeggiando che era un progetto estesissimo. Ricordo perfettamente. In tutti i comuni che era un progetto bellissimo dove si andavano veramente a toccare posti bellissimi, molto particolari, anche un po' sperduti delle volte ma assolutamente suggestivi che da soli chiaramente non si riuscirebbe ad organizzare. Per fortuna ancora si riesce a portare avanti questi discorsi. Anche queste sono cose da ricordare perché ci sono sempre delle cose che vanno bene perché se c'è da risparmiare, se c'è da fare delle... insomma ci sono le ragioni per cui si va a stringere su certe cose. Però non bisogna dimenticare che non si possono perdere tante altre tradizioni. Ecco quindi siccome le cose vanno fatte un po' in un modo, un po' nell'altro, ovvero se c'è da stringere stringiamo però non perdiamo l'essenziale. Come purtroppo invece viene fatto in tanti altri campi qui. Per lo meno siamo stati fortunati. Ancora per quest'anno, anche per il prossimo immagino, ma comunque ecco questa è stata una bella cosa. Allora di solito la provincia che vi convoca o addirittura c'è qualcuno che fa un progetto forse a monte, no? Sì, 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 c'è il di solito della provincia che accoglie un progetto che viene presentato proprio dalle associazioni culturali, magari anche mettendolo insieme, cioè creando un progetto più organico a cui partecipano varie compagnie, varie associazioni culturali che allora si mettono insieme, seguono una certa linea e poi organizzano gli spettacoli nei vari comuni certamente. Perfetto anche questo, insomma dai, quindi questa è una cosa che ormai ha preso piede e sta continuando in velocità perché credo che siate lanciati da parecchio, voi avete già partecipato anche a altre edizioni immagino. Sì, 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 è da parecchi anni certo che partecipiamo, sì, sì. Ecco quindi location nuove, spettacoli nuovi però qualche volta sono le compagnie quelle sono e questo cosa vi comporta? Dovete anche voi pensare a qualche spettacolo particolare, vi viene richiesto, fate voi la proposta, portiamo questo, portiamo quello, di solito come funziona? Di solito si fa un ventaglio di proposte, cioè si dice noi abbiamo determinati tipi di spettacolo, due commedie brillanti, una serie, si sente un po' anche magari qual è l'interesse principale, cioè magari ovviamente il referente a livello locale sa, conosce meglio qual è il tipo di spettacolo più adatto per il suo pubblico chiaramente e allora ci chiede specificamente quello piuttosto che un altro perché funziona meglio, può attirare più gente e poi è quello lo scopo, quello di far uscire la gente dalle case e vedere qualcosa di significativo, di bello. Tra l'altro direi che in momenti come questo, per uscire la gente dalle case, se non ci sono delle spese pazzesche da fare e in questo caso non sono spese pazzesche, si dà anche un po' aiuto e fiato alla gente che non sta rintanata perché quando ci sono pochi soldi e non ci sono disponibilità, uno cosa fa? A casa resta, fa la passeggiata e finisce lì, allora andare in mezzo alla gente, quindi cercare location un po' qui un po' lì, che possono attirare senza un dispendio di risorse particolari, credo che sia un po' anche un viatico per chi per una ragione o per l'altra le vacanze non se le può permettere, quindi diciamo che se ha il sistema di stare a casa, perché può avere delle giornate in cui sta a casa e non deve lavorare, può trovare qualche spettacolo che gli risolve lo scarico mentale di quelle che sono quelle ansie che hai accumulato in un anno di lavoro, devi trovare un sistema perché se stai chiuso in casa e pensi solamente al fatto che non ci sono un granché di Danè è meglio stare al lavoro, perché meno pensi meglio stai, se invece riesci ad avere il momento in cui svuoti la mente e ti ricarichi allora sì, no? Sicuramente, sicuramente, ma è anche un modo per, appunto, come dicevamo prima, per andare in mezzo alla gente, la bellezza anche del produrre spettacoli è quella di poter fare questa esperienza, diciamo collettiva, cioè di avere tanta gente che vede, reagisce in modo particolare e interagisce anche perché è bellissimo durante gli spettacoli e questo succede molto spesso negli spettacoli comici, sentire le reazioni delle persone, sentire che parlano tra di loro della cosa che hanno appena visto, sentire che... E anche le belle grasse risate, no? Sì, ovviamente le grasse risate, ma anche sentire che ti parlano dalla platea al palco magari suggerendoti cosa tu personaggio dovresti fare, cioè sono talmente partecipi della situazione che quasi ti parlano anche loro ai personaggi oppure delle volte che ti anticipano le battute perché essendosi resi conto della situazione gli viene spontaneo di dire eh ma... Ecco, come compagnia, avendo tutti questi spettacoli ovviamente nel vostro carnet, quante prove fate? Anche lì, è curiosità, quante volte vi trovate e con che cadenza voglio dire e quanto tempo dura le prove? Dunque, di solito le produzioni funzionano così, cioè si inizia come dicevo prima più o meno nel mese di ottobre, ci si trova con cadenza settimanale, una volta alla settimana per quei 4-5 mesi fino a febbraio-marzo al massimo, in marzo si intensifica l'attività nel senso che poi si passa 2-3-4 volte anche per definire le ultime cose, per prendere il ritmo giusto in modo che tra marzo e aprile al massimo si riesce a debuttare, per cui specialmente verso la fine del lavoro la cosa si fa più impegnativa. Durante l'anno, insomma, è un'attività normale, ecco sì. Ecco, questo vuol dire che nel momento da ottobre, diciamo a febbraio, se c'è qualcosa di nuovo è intenso più su quello che non sul rinfrescare cose già fatte, insomma, a meno che non ci siano delle variazioni, perché magari se questa adesso la proponiamo con... Allora cosa succede? Cambiano anche le scenografie? C'è qualcuno che si pensa a qualcosa? Come funziona qui? Perché anche lì la bellezza della rappresentazione c'è anche la scenografia indubbiamente. E quindi chi è che si occupa di ciò? Assolutamente, noi abbiamo una nostra regista che è anche attrice, che essendo laureata in architettura e avendo sempre avuto la passione per gli aspetti visivi dell'arte disegna le scenografie e poi, diciamo, le commissiona, se sono più semplici, a persone della compagnia, insomma, ci arrangiamo tra di noi, se sono più complesse anche a professionisti che le realizzano, però le idee, diciamo, e i bozzetti sono sempre fatti all'interno della compagnia. Quindi proprio tutto autottono, nasce e cresce lì all'interno. E questo vuol dire anche lì però impegnarsi un po' anche in extra, no? Perché un conto sono le prove, un conto sono le prove con la scenografia, un conto è preparare la scenografia, se qualcuno dà una mano, che ne so, se serve un pannello, qualcuno dice, lo faccio io o no? Esatto, esattamente, sì sì, poi come in tutte le compagnie amatoriali per molti aspetti ci si deve arrangiare tra di noi, però è anche bello questo, nel senso che crea una dimensione di familiarità anche al di là del puro momento dello spettacolo, del puro momento teatrale e fa vedere anche che ci sono molte cose dietro a quello che poi viene rappresentato, quello che poi il pubblico vede. E questo è molto bello, cioè di capire, di conoscere, di vivere tutti gli aspetti che poi portano al risultato finale e che sono moltissimi. Ecco, queste sono le soddisfazioni che vi arrivano, perché in realtà quando vedete che una cosa viene apprezzata, tutto quel lavoro oscuro, perché ovviamente è oscuro e che la gente non sa che viene fatto, però è lì che trova la soddisfazione, perché nell'applauso finale che se comincia e poi dura un minuto, due minuti, tre minuti, allora lì si è capito, no? Che è andata bene, benissimo. E allora tutto quel sacrificio, perché quindi conti un po', è un sacrificio, perché adesso uno dice, vabbè, forse qualcosa può anche rendere, però immagino che la gente un po' debba anche lavorare alternativamente a... o no? Diciamo che non rende granché, sicuramente. No, ma infatti noi tutti lo facciamo per pura passione e per la voglia di stare insieme, di realizzare qualcosa insieme, che è appunto per noi l'aspetto fondamentale. E che vuol dire però che contemporaneamente uno ha anche il suo lavoro. Assolutamente sì, assolutamente sì, infatti le prove vengono fatte di sera, ovviamente quando non, per esempio, di sabato o di domenica, perché la nostra, essendo un'attività amatoriale, nel senso migliore del termine, cioè di gente che ama fare qualcosa, deve essere fatta extra lavoro. Ecco, domani calcate un palco che pochi hanno calcato, perché è da poco che è stato rimesso a posto il parco, è una novità e quindi il parco di Villa Cesarotti e la Barchessa sono una novità, un nuovo palcoscenico. Palcoscenico che non è un palcoscenico tradizionale perché c'è il verde intorno, perché sono gli alberi, però insomma all'aperto il bello è anche questo. Se doveste voi così immaginare, vorrei poter fare la seguente rappresentazione lì. Quale potrebbe essere un piccolo sogno nel cassetto della compagnia, certo non solo tuo, ma della compagnia, quale potrebbe essere? Andare a rappresentare che tipo di cosa, anche questa per esempio, perché anche Donno di venerdì è una cosa, una commedia brillante, va sempre bene e cattura un po' tutto il pubblico, dai giovani ai meno giovani e anche di tutte le culture, perché la cosa brillante è abbastanza immediata, non serve la laurea e quindi piace, sicuramente piace e piace d'istinto, anzi persone che si aspettano le cose pesanti finalmente si rilassano e quindi potrebbe essere utile. Secondo te cosa mi piacerebbe che arrivasse un messaggio, un invito, qualcuno dice venite a fare Donno di venerdì qui, dove? Potrebbe essere un sogno, parliamo. Sì, beh diciamo che trovo molto affascinante, vedo anche appunto in tutti i miei compagni, subiamo molto il fascino dei teatri all'italiana più grandi e più sfarzosi, cioè quelli con, per intenderci, quelli a ferro di cavallo con i palchetti, il loggione eccetera. Andiamo dal Verdi in poi. All'aperto abbiamo l'Arena, comunque a Verona, volendo. Sì, per esempio il Teatro Romano di Verona è uno spettacolo di per sé, però devo dire per noi le esperienze più belle, più affascinanti, più sentite, ho sempre visto, sono state quelle nei grandi teatri di prestigio, quelli in cui magari vengono organizzati festival, cose particolari e allora hai proprio il gusto di sentirti anche un po' il professionista importante di turno perché per esempio nei teatri grandi, penso, noi siamo stati per esempio nel teatro Cittadino di Macerata dove fanno un bellissimo festival nazionale ed avere per esempio un camerino per ogni attore è una cosa che ti fa sentire importante, è una cosa molto bella, poi vai sul palco e vedi questo spettacolo di teatro tutto pieno di stucchi, decorazioni, lampadari enormi, ori e freggi dappertutto, ti sembra di essere veramente in un'altra dimensione sicuramente. Però questo potrebbe creare un po' di emozione e quindi diciamo diventare un po' fastidioso per la recita perché l'emozione non è una cosa che ti aiuta. La crea, posso confermare che la crea assolutamente. Quindi bisogna poterlo fare più e più volte in un location così, come le 6-7 volte che si ripete la stessa scena perché poi alla fine ti sembra casa tua e allora è tutta un'altra faccenda. Dico io, potrebbe essere così, no? Sì, 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 assolutamente. Ecco, mi viene in mente per esempio una cosa che poi ci riguarda particolarmente essendo la Compagnia di Vicenza, andare ovviamente con un qualcosa di adeguato ma per chi ha la fortuna di calcare il palcoscenico del Teatro Olimpico di Vicenza penso che una soddisfazione più grande sia difficile da trovare. Io sono stato sul palco dell'Olimpico una volta sola ma per presentare una cosa, non per fare uno spettacolo e già solo andare lì con una cartellina e leggere in questo ambiente è stata un'esperienza che faceva tremare le gambe veramente. Come immagino, insomma, quindi ecco, il sogno sarebbe poter fare qualcosa di questo genere in posti di quel tipo. Sì, magari penso più al punto, questo lo consente magari di più il teatro classico, mi veniva in mente prima per esempio anche un teatro greco all'aperto come può essere il teatro di Siracusa per esempio, allora lì ti trovi in una dimensione che poi comporta anche suggestioni storiche, suggestioni di tutti i tipi che ovviamente ti porta in una dimensione superiore sicuramente. Domanda in più, vi è mai stato chiesto di farlo in località tipo marino dove quindi non hai più nell'erba, nel cemento, che ne so, in mezzo alla sabbia potrebbe essere fattibile, perché ci sono sicuramente dei problemi per quello che riguardano anche la coreografia, perché se hai un muro a cui appoggiarla o hai dei cavalletti, ma sulla sabbia è un po' più difficile. Sì, direttamente sulla sabbia magari è più difficile, però so, a noi non è mai capitato devo dire, però so che ci sono comuni balneari che organizzano spettacoli in spiaggia allestendo però un palco, ovviamente non direttamente sulla sabbia, però con un palco sulla spiaggia e con la gente che assiste allo spettacolo in riva al mare, deve essere molto bello, anche se noi finora non l'abbiamo mai fatto e speriamo magari di avere un'occasione. Visto che noi abbiamo la possibilità di spaziare dalla Liguria fino al primo di Veneto e Giulia e scendiamo dalle Marche, dall'Emilia Romagna fino alle Marche, ce ne sono di posti dove si può fare qualcosa al mare, anche qui nel Veneto sono proprio tanti tanti e quindi insomma se qualcuno ha voglia, ripetiamo il nome della compagnia, si chiama? Nautilus, cantiere teatrale, ecco perché io pensavo cantiere teatrale, no Nautilus cantiere teatrale, si abbiamo diciamo premesso l'elemento più poetico e Nautilus? Nautilus diciamo noi facciamo riferimento al sommergibile del capitano Nemo perché quando sei anni fa siamo partiti diciamo per noi era decisamente un'avventura e allora lo abbiamo chiamato Nautilus in onore del capitano Nemo certamente, anche se poi il simbolo della compagnia è la conchiglia fossile insomma da cui poi il sommergibile prende nome. Ecco nel vostro repertorio non ci sono cose dove si canta e si balla, non ci sono i classici show che potrebbe essere un qualsiasi, un West Side Story o una cosa, no esatto, sono solo cose recitate, se c'è il balletto è occasionale, sì 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 è occasionale sì, no i musical sono sempre un nostro sogno certamente, c'è il pensiero però, il pensiero c'è sicuramente, però sono molto difficili da realizzare anche perché bisogna fare un po' i conti diciamo con la disponibilità, con le forze che si hanno e per fare una cosa del genere pensiamo che si debba essere preparati. Posso darti una dritta? Sì certo. Noi abbiamo avuto ospite la banda di Selvazzano e a Selvazzano tra la banda c'è un coro, adesso la prossima dimensione dello spettacolo della banda sarà che i componenti della banda cantano anche, oltre che suonare, questo perché? Perché ovviamente quelli e quelli del coro stanno insegnando e hanno scoperto che sono delle voci molto belle, molto importanti anche all'interno di questo gruppo di persone che convinte di suonare basta, quindi non pensare che in mezzo alla vostra compagnia ci siano magari dei cantanti validi, non da opera, però magari se è un musical facile, facile potrebbe essere. Avete provato mai a misurarvi nelle vostre capacità canore? No, devo dire che siamo sempre stati concentrati sull'aspetto recitativo, questo lo abbiamo un po' tralasciato. Ecco, visto che è giunta qui e io l'ho veramente apprezzata perché ho detto guardate che di solito ognuno guarda il suo risultato, per carità, si è amici, ci conosce però è un po', no? Andare a aiutare gli altri non fa parte sempre dello spettacolo, diciamolo, no? Perché se uno ti domanda, se uno ti domanda, scusami, guarda, mi manca un pannello, so che siete fermi, voi avete un pannello, me lo presti? Può ancora essere. Ma che uno venga ad aiutarti e usare la tua voce per fare in modo che impari a respirare, impari a usarla e a cantare? No, di solito no. Ecco, questo succede con la banda e il coro dei servazzano dentro e hanno fatto questa cosa qui. Io non vorrei dire, però, credo che dall'esperienza degli altri ci sia sempre qualcosa di buono da trarre. Io te lo consiglio, magari se avete qualche amico, qualcuno che sa cantare, anche un maestro, perché il quale dice così, per scherzo, fate un'audizione fra di voi. Proviamo. Voi vedremo. Al limite organizziamo un karaoke, intanto, guardate perché le cose escono sempre e solo nei momenti in allegria, perché se lo vuoi studiare e diventa una cosa, è già pesante il pensiero di applicare questa cosa, ma no, sono anni che recito cose, mi metterò mai a cantare. Il giorno in cui scopri che hai una voce adatta a cantare, beh, certo che canto anche. Quindi questa potrebbe essere così, io la butto, perché sono... Sì, sì, no, beh, certamente un'idea, ed è per noi comunque un sogno, una prospettiva assolutamente interessante. Diciamo che finora non l'abbiamo mai perseguita. Ecco, nel momento in cui scoprete che lo potete fare, voi venite qua e fate qualcosa per noi. Certamente, è un grande piacere. Noi amiamo dare le idee, se è possibile, cerchiamo di darle, ovviamente le diamo nei limiti di quello che è, dare uno spunto, poi ovviamente ognuno trova o non trova sbocco in questo, però credo che sia una cosa da provare, anche solo per voi, per divertirvi, perché voi siete di solito persone che fanno divertire, speciale nelle commedie brillanti, e siete i protagonisti. Nel giorno in cui invece vi andate tutti insieme, nella serata lì, vedi le prove, stasera le finiamo presto, andiamo in uno di quei locali, ce ne sono tanti, mamma mia, in giro nel Vicentino, nel Padovano, dappertutto. Sono locali dove fanno karaoke, diciamo, andiamo a mangiarci un bel panino e proviamo a cantare anche noi. È un sistema in compagnia, poi uno scopre, sentimano, è questa voce, da dove l'hai tirata fuori. Arriviamoci sopra perché penso lo sistema e poi scopriremo che anche loro faranno musical, attenzione. Vabbè, allora andiamo a ripetere quello che succede domani, perché la gente lo deve ricordare, domani è giovedì, giusto? È il giorno 16 del mese di luglio, così facciamo capire che siamo in diretta, 20.53 al nostro orologio, quindi regolate il vostro perché il nostro è sicuramente giusto. Siamo alle 21 inizia lo spettacolo, siamo in Villa Cesarotti, comune di Servazzano dentro, la via è quella omonima, perché si chiama Cesarotti in quanto c'è la villa, perché ci ha vissuto Melchiorra Cesarotti lì dentro, quindi non è che è un posto intitolato A, è dove c'era proprio. È un parco che lui decise di lasciare ai posteri perché, come è notorio, e se non è notorio ve lo spieghiamo in questo momento, uno può anche pensare oggi di creare un parco, ma chi lo godrà sarà almeno almeno mezzo secolo più avanti, se no nel frattempo il parco non cresce, perché puoi mettere le piantine, devi trovarlo che abbia sviluppato molto di se stesso, quindi questa è una cosa. E poi, se vi perdono domani sera, perché uno magari ci ascolta da un po' più distante, dove vi spostate? Avevamo detto che c'è qualcosa a breve termine di nuovo? Sì, a breve termine, poi c'è venerdì sera, posso anche dire, c'è a Vescovana, quindi siamo nella bassa, ma in una bellissima location, perché è una tenuta, un agriturismo nel parco di un agriturismo, che si chiama Tenuta la Comuna, e verrà rappresentato uno spettacolo tutto completamente al femminile. Non sono le donne del venerdì? Non sono, no, le donne del venerdì si tramutano nelle donne di Casanova. E c'è il fortunato che fa Casanova insieme a tutte le donne? No, il problema è che non c'è, c'eravamo candidati in molti, ma non ci hanno voluto. Ecco, per pura fatalità le donne di venerdì le fanno il giovedì a Selvazzano, ma se le donne di Casanova le fanno il venerdì a Vescovana. E poi ancora così in tempi brevi? In tempi brevi, poi nella stagione estiva, andiamo però ad agosto, il 22 agosto Arena di Montemerlo, La moglie, l'amante e il monsignore, e la stessa commedia, La moglie, l'amante e il monsignore, 28 agosto a Montagnana, all'Arena Martinelli Pertile. Ecco, noi sappiamo che la gente non ha sempre sotto mano la carta e la penna, e le cose a memoria, non ce le ricordiamo, perché purtroppo siamo abituati ad avere così tanti stimoli e tante cose da ricordare, che se non prendiamo nota non ci riesce. Però noi, scusate, sappiamo che esiste cosa? Un sito che avete sicuramente, no? Certamente. che è www.nautiluscantiere-teatrale.it e oppure la pagina Facebook Nautilus Cantiere Teatrale, che è molto comoda e immediata, perché si trova subito ed è costantemente aggiornata con i nostri impegni. Ecco, questo volevo ricordare, perché uno dice, sì, che bravi, mi dite tutte le cose, però poi non riusciamo a ricordare. Ecco, andate e fate come facciamo noi. Noi postiamo tutte le nostre cose sulla pagina Facebook, abbiamo il nostro sito, anche loro hanno il loro sito e quindi, quando una cosa vi interessa, ricordatevi solo la parola magica, Nautilus Cantiere Teatrale, perché altrimenti se non ricordate questo, non ricordate questo. Però insomma, già con Nautilus Cantiere potrebbe arrivare, Nautilus solo no, perché se lo scrivete su internet e fate ricerca Nautilus e si aprono 1600 pagine al primo momento, poi arrivano anche le altre. E quindi ecco, Nautilus Cantiere Teatrale, voi siete vicentini, siete stativi di come sede, però il vostro raggio copre varie province? Sì, più o meno diciamo tutto il Veneto, insomma in tutto il Veneto andiamo in giro, a volte anche con qualche puntata extra, siamo arrivati fino a Napoli, Roma, insomma siamo riusciti. Sì, sì, sì. Arrivate oltre il nostro segnale, anche in streaming siamo dappertutto, oltre il nostro segnale. Vabbè, cosa posso dirti Daniele? A questo punto intanto ringraziarti perché hai rappresentato da solo tutta la compagnia. Io scusami se sono stato un po' invadente con un sacco di domande, però credo che sia un po' la curiosità che hanno tutti i nostri amici e poi quando siamo in un ambiente di tipo radiofonico, siamo più portati a raccontare le cose, quando invece la televisione è quasi solo visiva, a noi piace anche raccontare un po' le cose che così ti restano più impresse anche per chi non le vede e come le vedesse. Ecco, questo è un po' la nostra mania. Io ti ringrazio, dicevo, l'appuntamento allora amici è per domani sera a Selvazzano Dentro, via Cesarotti, perché la villa si chiama così, la via si chiama così e con Nautilus, compagnia teatrale, donne di venerdì, commedia brillante, ore 21, cercate di arrivare qualche minuto prima, lo spazio è ampio, quindi comunque non ci dovrebbero essere problemi, però attenzione perché chi prima arriva, come al solito, meglio alloggia, perché le sedie ci sono, però chi più vicino, chi più lontano, non ci sono problemi a sentire, però qualche volta l'occhio vuole da sua parte essere vicini, fa piacere. Noi, beh, non possiamo fare altro che ringraziare Daniele, ringraziare la regia che ci ha seguiti fino a qui e io mi fermo qualche attimino, anzi ci fermiamo insieme qualche attimino per la parte solamente di Radiogenius e quindi andiamo a sganciare quella che è la parte televisiva. I saluti allora sono per Casa Caffè, da Caffè24 Television a tutti una buona serata. Dopo la sigla noi restiamo qui, il microfono è lo stesso, si chiama Radiogenius e continuiamo a parlare con i nostri ascoltatori. Grazie a tutti, buona serata e mi raccomando ci vediamo venerdì altre cose importantissime, non vi facciamo mancare mai niente. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.